E' l'ultimo atto di una vicenda iniziata durante la gestione commissariale della cooperativa del Forteto. Si è chiuso con un accordo tra le parti interessate. Le vittime, riconosciute dalla sentenza della Corte di Cassazione, hanno ricevuto il risarcimento concordato e al tempo stesso hanno rinunciato ad ulteriori atti giudiziari nei confronti della cooperativa. A dirlo è il nuovo presidente della cooperativa, Maurizio Izzo, spiegando che a questa soluzione si è arrivati dopo che è stato ottenuto da un istituto bancario il finanziamento necessario. Si è quindi proceduto con la firma tra le parti di un nuovo atto di transazione. In poco più di un mese il nuovo consiglio di amministrazione, come da mandato dell'Assemblea, ha portato a termine la vicenda con reciproca soddisfazione delle parti, sottolinea Izzo. L'atto di transazione era stato proposto dal commissario governativo per garantire un ristoro economico che permettesse alle vittime di superare le difficoltà che hanno trovato dopo le vicende giudiziarie. E' un altro tassello importante del rinnovamento in corso alla cooperativa del Forteto, che ora può guardare con più serenità al futuro, concentrandoci sulla necessità del rilancio commerciale e produttivo. Per il Forteto i mercati internazionali valgono il 48% del fatturato ed i mesi del lockdown sono stati molto difficili, ma già a partire da giugno gli ordini verso Stati Uniti e Nord Europa sono ripartiti ed anche il mercato nazionale da segni di ripresa.